Farò il video a questi magnifici boys, che sono i nostri ciclisti che pedalano, pedalano, per arrivare in tutta Italia, ecco, al nostro cuore, alle nostre gambe, no vabbè, mi lascio un po' trasportare che è uscito il sole ragazzi, ecco vi saluto, un bacio fans, ciao! Ciao fans, la vostra Veronica Rossi, oggi non so la data, comunque qua stanno passando dei magnifici ciclisti, io sono ad Asti, qua da Corso Savona, per voi, sempre, sempre in diretta, vedete, vedete, ecco, ora vedete solo me, ora poi farò il video a questi magnifici boys, che sono i nostri ciclisti che pedalano, pedalano, per arrivare in tutti i tempi, in Italia, ecco, al nostro cuore, alle nostre gambe, no vabbè, mi lascio un po' trasportare che è uscito il sole ragazzi, ecco, vi saluto, un bacio fans, ciao!